gentili telespettatori buona giornata la lega ha le mani sul governo draghi e vediamo perché i grillini sono in disfacimento la lega festeggia non solo per la soddisfazione della loro per la loro disgrazia ecco ma anche perché la golden share del governo adesso nelle mani del centro destra e poi soprattutto annuncia matteo salvini nelle prossime ore non solo dai 5 stelle c'erano diverse persone che cominceranno il loro cammino con noi sia alla camera che al senato quindi diverse novità positive i 5 stelle in disfacimento perdono e spell e spell e spell persone e quindi diciamo che oltre le espulsioni delle persone ce ne sono altre che se ne stanno per andare via in autonomia ce ne sono altre che verranno espulse perché non hanno pagato perché erano assenti ingiustificate durante le votazioni quindi i numeri sono cambiati al senato erano in vantaggio pd e 5 stelle adesso sono in svantaggio c'è davanti salvini e berlusconi so è cambiato il pallottoriere giorgio almeno diceva il pallottoriere questo la sinistra comanda ma quel pallottoliere è cambiato e che sono cambiati proprio i numeri il leader della lega era contento questo fine settimana fa niente se se due un euro parlamentare e un altro lo hanno tradito per la meloni alla fine rimangono sempre nel centro destra queste due persone perché tutte e due si spostano nel partito del della meloni il suo partito quello di berlusconi di salvini è saldamente al governo con mario draghi e salvini dice persona draghi a cui va la mia stima e la mia lealtà di lui mi piace tutto tranne il fatto che tifa la roma dice ironizzando ma è pur vero che sul campo di calcio ognuno è libero di tenersi le proprie bandiere così anche su europa e migranti salvini sembra soddisfatto perché nel suo discorso cioè nel discorso di draghi l'ha detto due volte cambiare le norme europee noi siamo per una politica europea di rimpatri e redistribuzione anche se caro salvini e caro draghi l'europa non ha nessuna intenzione di prendersi obbligatoriamente i clandestini che l'italia fa entrare con i taxi del mare non prendono neanche i rifugiati politici quelli che hanno l'asilo politico figuriamoci se automaticamente si prendono obbligatoriamente automaticamente i clandestini che noi facciamo entrare ma scordatevelo anche se il super mario per in europa è un dio in terra i clandestini non se li prende nessuno ecco lo devo ripetere nessuno bene dopo il voto di fiducia quindi diciamo il centrodestra senza fratelli d'italia che rimane all'opposizione sono forza di maggioranza rispetto a pd 5 stelle 116 tra dem 5 stelle e leu i numeri contro i 118 di lega forza italia e i totiani di cambiano in più l'intergruppo nato per combattere i giallorossi si è già sfasciato segno che l'unione da quella parte è ballerina i numeri a favore del centrodestra scusate possono aumentare in caso di scissione dei pentastellati e in caso di altre espulsioni e di fuoriuscite volontari quindi quel numero quello squilibrio è destinato a aumentare in favore dei partiti di centrodestra intanto anche la lega vuole contare avrebbe già ipotecato la poltrona di vicepresidente della camera lasciata libera da mara carfagna beh non è un governo di centrodestra ammette salvini mai però come in questo momento generoso con le parole dice un governo di unità e chi resta fuori perde un'occasione sempre la frecciatina a giorgia meloni con il pd si dovrà dialogare dice il capo della lega su alcuni temi la vedremo sempre in maniera diversa dice come l'idea di famiglia futuro società però ora salute e lavoro sono la priorità mettiamoci al tavolo su quello su cui siamo d'accordo e quello che ci divide lo affronteremo quando si andrà a votare e così ieri ha cominciato presto in tv salvini nonostante tutti i danni che ha fatto dice all'italia domenico arcuri sia ancora al suo posto e poi manda un messaggio a draghi dice riporti il merito al centro dell'agenda politica chi lavora bene viene premiato chi lavora meno bene lasci il posto a qualcun altro e poi dice una ragione una regione all'avanguardia la lombardia ma mancano i vaccini perché qualche genio a bruxella ha sbagliato i contratti e poi dice spero che questo bip virus venga messo all'angolo la gente ha voglia di uscire di casa basta chiusure e poi è stato come sapete per l'udienza a catania è rimasto soddisfatto anche del dei testimoni la di maio che si sono dimostrati corretti come dice lo stesso capo della lega e dice così spero che loro si ricordino altri non ricordavano in effetti sia di maio che la morgese hanno ricordato chi è che non ricordava era danilo toninelli con i suoi 42 o 44 non ricordo chiedete a salvini insomma così queste sono le 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 cose che stanno succedendo insomma diciamo che anche il capogruppo riccardo molinari alla camera dice non alzeremo totem ideologici su temi come l'immigrazione quota 100 flat tax ma pretendiamo che non lo faccia nessun altro ma di prescrizione si deve parlare perché un problema enorme che riguarda la civiltà del nostro paese però paolo mieli avverte avverte mario draghi dice la magistratura militante ribolle attento ai temi che andrai a modificare trattare ad esempio quello sulla giustizia penale ecco insomma dice la giustizia si è sempre rivoltata contro i governi forti negli ultimi decenni ecco quindi il monito è proprio di paolo mieri l'ex direttore del corriere della sera che fa questa inquietante profezia come dire guardati alle spalle a descia e a siniscia come dicevano come diceva quel pentito il giudice borsellino giudice si guardi a descia e a siniscia ve lo ricordate il film è bellissimo quello paolo borsellino ogni tanto su youtube si trova ancora quel film per la televisione che si chiamava paolo borsellino ce ne erano due da non confondere uno meno bello e uno più bello e il pentito gli diceva quando chiama borsellino in carcere gli dice giudice lei si deve guardare a descia e a siniscia si deve guardare alle spalle a descia e a siniscia va bene io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata a tutti quanti arrivederci